Voi chiudete gli occhi, fatemi una domanda, qual è la vostra percezione sulla sicurezza, sulla sicurezza individuale, sulla sicurezza del cittadino che di notte cammina per le strade e tutto il resto? Qual è la vostra percezione? Leggendo ogni giorno sui giornali di tentativi, di stupro, aggressioni, violenze, incidenti, è una percezione di un'altissima pericolosità. Che cosa ci dice il Sole 24 ore con un'indagine scientifica, quindi sui dati circostanziati? Ecco la mappa dei reati, 284 denunce ogni ora, quindi è vero ci sono in Italia 284 denunce alla Polizia, ma addirittura il 7,4% in meno rispetto allo scorso anno, 7,4% in meno, alla fine dell'anno sono migliaia di denunce in meno. Quindi vedete che questa nostra percezione in qualche modo è amplificata da un linguaggio trash, mi rifaccio sempre ad Aldo Biscardi che commemoro, su questo avvenimento dove la paura spesso viene utilizzata per vendere i giornali, per dare di dolore in televisione e per guadagnare qualche voto elettorale in più. C'è pericolo perché 284 denunce, poi voi mi dovreste dire ma mica tutti le denunciano, a me mi rompono il diflettore, mi rompono in macchina, manco ci vada la Polizia, è vero ma quello vale pure per l'anno scorso, quindi il punto è sempre quello, il 7,4% in meno c'è sempre, quindi sgombro anche da questa vostra eccezione che sento da casa mi state facendo. Non è così, perché si sono dati, quindi il riferimento ha dato da un anno all'altro, quindi 7,4% o più. Adesso vi sfido, qual è la città meno sicura d'Italia? Intuisco che da casa possiate dire Napoli? Magari pensate Roma? No, 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 è Milano, clamoroso al Cibali, direbbe appunto Aldo Biscardi, è Milano la città più pericolosa d'Italia, dove ci stanno quindi più denunce di fatti malavitosi. E la seconda, secondo voi, questa non ci arriverete mai, perché se pensate alla riviera Romagnola, dei Lazzi, Vizi e Cotigliorne del Bengodi, mai potreste pensare che la città al secondo posto di pericolosità è addirittura Rimini, è Rimini, la città del Bengodi italiana è la città che è dopo Milano la più pericolosa, direi che è il piccolo centro più pericoloso d'Italia. Questa è un'altra notizia clamorosa. Se volete il terzo, anche su questo non ci arriverete mai, perché Napoli ancora non la trovate e Roma neanche si staglia, va bene, c'è Bologna, c'è addirittura la grassa Bologna del Turtalen, vi mangiate il Turtalen ma dovete stare attenti al portafoglio, perché ragazzi Bologna è al terzo posto nella città più pericolosa d'Italia. Poi vi dico anche che al quarto posto c'è addirittura Torino e poi arriva Prato, Prato in Toscana. Quindi vedete che incredibilmente di tutta questa vicenda c'è ben poco di meridione, delitti in totale. va bene, e quindi questa è in qualche modo quella che poi ci dice il sole 24 ore, purtroppo non ve lo leggiamo più di tanto, perché poi vi dovremmo dire che voi ci potreste dire qual è la più sicura, Sondrio in Valtellina. Quindi ragazzi se volete stare tranquilli, tutti in Valtellina, tutti in Alto Adige, quelle zone lì sono le migliori, va bene, però anche, non ci crederete, ma la seconda in classifica è Enna, quindi vedete che il meridione appare come elemento di sicurezza, nessuno l'avrebbe mai detto Enna, su questo non c'è dubbio. L'analisi che fa il sole 24 ore è interessantissima perché ci dice alt al mercato della paura, alt al mercato della paura, perché quello che vi dicevo prima, spesso la paura viene venduta al mercato per interessi privati e poco commendevoli, poco trasparenti, che sono quelli che vi ho detto prima. Mi dite al terzo posto, volete sapere, Rieti nel Lazio, Rieti è la città fra le più sicure d'Italia.